Sono giorni frenetici per gli uffici comunali di Teramo che si occupano di gestire le iscrizioni alle menze scolastiche, presi letteralmente d'assalto da centinaia di genitori che hanno scoperto di non essere in regola per l'anno scolastico appena iniziato. Il servizio, che mediamente riguarda 1700 studenti, prenderà il via lunedì, ma sono almeno 400 le domande non pervenute al Comune. Abbiamo avuto dei piccoli problemi più che altro perché soltanto negli ultimi giorni, se non l'ultimo tra agosto e i primi di settembre, sono arrivate una marea di domande all'iscrizione al servizio mensa quando in realtà il bando scadeva al 31 maggio. Quindi abbiamo un po' di difficoltà nello smaltimento delle pratiche per quanto riguarda l'istruttoria, ma c'è la volontà e l'impegno di questa amministrazione di ammettere con riserva tutte le domande che sono arrivate dal 18 agosto fino ad oggi, in modo tale che i bambini possano così mangiare il 18 settembre nelle rispettive scuole. Nei giorni scorsi moltissime famiglie si sono accorte di non avere presentato la richiesta nei tempi previsti, altre lo hanno fatto in modo errato o con documentazione carente. Altri ancora hanno scoperto che la domanda era rimasta bloccata nel sistema telematico. Possiamo dire che c'è stata forse un po' di disattenzione da parte di alcune famiglie? Beh, sì, il fatto che se io prendo il dato storico al 31 maggio su una popolazione di bambini che usufruisce della mensa scolastica di 1700 bambini appunto, le domande arrivate al 31 maggio erano poco più di 600, quindi sicuramente c'è la necessità di essere un pochettino più puntuali. Ovviamente io capisco che poi le famiglie si ricordino di presentare la domanda nell'ultimo periodo, ma ciò nonostante veniamo incontro a questa difficoltà da parte delle famiglie risolvendo in questo modo, cioè ammettendo i bambini con riserva, quindi invito le famiglie a consultare il sito del Comune di Taramo dove ci sarà l'elenco dei bambini ammessi appunto con la voce con riserva, il che significa che poi il Comune provvederà a elaborare le pratiche più in là.